Match attesissimo per la Turis, attesa dal derby contro la Juve Stabia a Romeo Menti di Castellammare, una sfida molto sentita dalla piazza Corallina a causa della rivalità che è emersa nei precedenti tra le due compagini. Basterebbe già solo questo per rendere questo incontro di vitale importanza, e invece anche la classifica impone alla squadra di Mr. Canè una prova importante per cercare di portare a casa quantomeno un risultato utile. Dopo l'esordio con Vittoria in casa nell'altro derby campano contro la Casertana, il tecnico subentrante a Franco Fabiano ha raccolto due sconfitte di fila nelle quali Corallini hanno mostrato sprazzi di buon calcio, ma servirà di più se la Turis vuole tenersi fuori dal discorso salvezza e se vorrà dire la sua nel match in programma domenica alle ore 15. Potrebbe essere della sfida il capitano Fabio Longo, che è ripreso ad allenarsi regolarmente e che ha messo nel mirino il derby, anche con una presenza a partita in corso. Più improbabile appare invece l'impiego di Daniele Franco, per il quale si prospetta un rientro nel match contro il Catanzaro. Nelle prossime ore si capirà se il centrocampista risulterà nella lista dei convocati per il derby, che sarà fischiato dal direttore Stefano Nicolini, coadiuvato dagli assistenti cortese Poma e Pirrotta. In ogni caso l'imperativa è quello di giocarsela per cercare di mettere in cascina punti vitali per il campionato. Saranno da evitarsi ogni tipo di disattenzione e di leggerezza nelle situazioni di gioco, vero punto critico di questa parte di stagione tutt'altro che esaltante per la Turris, che avrebbe bisogno di un risultato importante in una partita come questa per potersi finalmente rilanciare in vista della parte finale di stagione.